Le raccomandazioni ci sono anche qui e per questioni di amicizia al ballottaggio ci va anche Cacioli Ottima la chiusura al diciannovesimo quando non si lascia ingannare da Marti e concede solo l'angolo Reggevole invece al quattordicesimo l'apertura di prima su Clemente Cacio e Pepe L'acquario Cacioli non ne fa passare una Bello il doppio intervento di testa al 26esimo Delfino curioso Cacioli si inventa ala e si candida a grifo bonito Siamo al 91es e arriva la vera perla della partita E' il commovente alleggerimento di Cacioli Delfino artificiale Delfino artificiale E' il pubblico problemi. Passaccia uccacciare.